Il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Catania, Roberto Passalacqua, ha convalidato l'arresto del 22enne giarrese Paolo Marino, arrestato sabato notte in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Giarre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al giovane, assistito dal difensore di fiducia Massimo Monastra, sono stati concessi i domiciliari cui era già sottoposto per un'altra accusa, furto d'auto. Nella sua abitazione, i militari, impegnati in una più ampia attività di controllo del territorio, hanno trovato sette dosi di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale per confezionare le dosi e 190 euro in contanti, tutti sequestrati. Stante la flagranza del reato, il legale ha chiesto e ottenuto l'applicazione della pena su richiesta delle parti, patteggiata una pena a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa pari a 1.500 euro.